E' un'attività di informazione più capillare possibile quella che il confrattigianato Pistoia realizza con la Camera di Commercio per la campagna di sensibilizzazione e abusivismo Non mi piace più. Per questo gli artigiani partecipano all'estendo un punto informativo a alcuni dei principali mercati e non poteva mancare quello di Piazza del Duomo che si tengono in provincia di Pistoia. Lo scopo è rispondere a quesiti posti dai cittadini e raccogliere segnalazioni con l'obiettivo di indirizzare l'acquisto consapevole di merce e servizi. Con l'occasione viene anche distribuita una brochure a fumetti realizzata appositamente per questa campagna. Diamo il via alla campagna nei mercati, quindi sulla strada e tra la gente. Abbiamo già iniziato l'incontro con le scuole perché questo progetto prevede il coinvolgimento dei ragazzi, delle scuole medie e delle scuole superiori. Quindi abbiamo già iniziato i vari interventi nelle varie scuole e grazie alla Camera di Commercio e al contributo della Camera di Commercio e ora siamo riusciti ad arrivare anche nei mercati. Arriviamo nei mercati e tra la gente perché è qui che la gente ha veramente il contatto con quello che potrebbe essere l'abusivismo e non. Per quello che compriamo, l'etichettatura, tutto quello che regola una vendita seria e rispettosa della salute della gente. Poi c'è quello che è dentro le botteghe, quello dentro le botteghe dei maestieri artigiani che possono essere parrucchieri, estetiste, falegnami, autoriparatori, carrozzieri perché sembra che cosa ci possa influire un meccanico. Se io vado a cambiare le pasticche dei freni da un meccanico improvvisato posso rischiare che non mi faccia un lavoro a regola d'arte e arrivi a frenare in curva e la macchina non mi si ferma. Tante volte semplifichiamo troppo il discorso dell'abusivismo.